benvenuti a questa lezione del corso di programmazione d'oggetti in cui affronteremo gli elementi un po più avanzati relativi all'ereditarietà in particolare parleremo delle funzioni lambda dei metodo reference e faremo alcune considerazioni relative a un uso pratico e gli aspetti di dettaglio dell'uso dell'ereditarietà partiamo da un esempio che abbiamo visto in precedente allora qui troviamo un metodo che accetta un array di oggetti e un oggetto comportamentale p che implementa l'interfaccia consumer per ogni elemento v che si trova l'elemento o che si trova nell'array v viene chiamato il metodo accept di questo oggetto comportamentale per cui volendo stampare tutti gli elementi di un array io posso creare un oggetto printer che implementa l'interfaccia consumer che andiamo a descrivere con questa classe interna anonima se osserviamo tutto questo blocco di codice in questo riquadro inferiore possiamo osservare come in realtà l'unico controllamento di codice l'unica linea veramente rilevante è quella evidenziata in colore arancione tutto il resto è sostanzialmente un contorno quello che potremmo chiamare zucchero sintattico proprio per ridurre questo ridondanza di codice in java sono state definite quelle che si chiamano delle funzioni lambda ovvero una nuova sintassi in cui è possibile andare a indicare una funzione interna una scusate una classe interna anonima semplicemente utilizzando questo operatore freccia in cui alla sinistra specifichiamo il parametro e sulla destra andiamo a scrivere il codice che viene eseguito ovviamente le funzioni lambda possono funzionare andando a mappare un input con un output esclusivamente per le interfacce funzionali ovvero vi ricordo le interfacce che hanno un unico metodo che sostanzialmente non ha particolari side effect per cui rispetto al codice che vediamo qua noi andiamo a prendere il frammento di codice che veramente viene eseguito quindi il corpo del nostro metodo il parametro e questi sono i due elementi fondamentali che vengono messi dentro la nuova sintassi della lambda function la sintassi della lambda function prevede una struttura basata su questo operatore freccia alla cui sinistra andiamo a elencare i parametri del metodo dell'interfaccia che intendiamo implementare e alla destra della freccia andiamo a riportare quello che il corpo del metodo i parametri potrebbero essere nessuno se abbiamo un metodo che non riceve alcun parametro e restituisce semplicemente dei valori uno possiamo averne più di uno e in questo caso sono racchiusi tra parentesi tonde separati da virgola in generale possiamo omettere i tipi se questi possono essere inferiti in maniera automatica dal compilatore oppure possiamo andare a indicare esclusivamente i nomi delle variabili per quanto riguarda il corpo del del metodo lo possiamo mettere come una semplice espressione ad esempio x più y oppure mettendo un un'istruzione composta quindi racchiusa tra parentesi graffe come vi dicevo in generale i tipi dei parametri possono essere automaticamente inferiti dal compilatore in base al contesto questa inferenza automatica dei tipi è estremamente utile perché in base al contesto in cui si trova l'espressione lambda il compilatore è in grado di capire tante cose innanzitutto in base al contesto in caso di capire qual è l'interfaccia che noi stiamo implementando quindi nel caso precedente se diciamo consumer printer uguale significa che questa espressione lambda serve per andare a descrivere una classe interna anonima che implementa l'interfaccia consumer sapendo qual è l'interfaccia che noi stiamo implementando automaticamente il compilatore sa anche quali sono i tipi di ritorno e i tipi dei parametri per cui o qui non è specificato in quanto dentro la classe consumer che è dichiarata qui o è di tipo oggetto quindi l'unico parametro del metodo che noi stiamo implementando tramite la lambda è di tipo object e il tipo di ritorno anche in questo caso è perché l'interfaccia consumer nell'unico suo metodo ha come valore di ritorno semplicemente void quindi tutte queste informazioni relative ai tipi sono automaticamente inferite dal compilatore e quindi non è necessario andare a inserire ovviamente in alcuni casi è possibile inserirle comunque per andare a risolvere dell'ambiguità soprattutto se ci sono inferenze concatenate ma in generale nel caso più semplice le possiamo risparmiare avendo in questo modo la possibilità di una notazione molto compatta vi faccio un esempio tornando a un caso che abbiamo visto quando devo andare a definire un comparatore sempre nel caso della classe student che abbiamo visto nella lezione precedente io posso andare a definire un comparatore dei due oggetti student in maniera così compatta quindi a e b sono i due oggetti che rappresentano gli studenti freccia cast punto id meno cast del secondo punto id questo è assolutamente equivalente alla scrittura che vediamo qua sotto quindi notiamo come esista una significativa riduzione del codice che andiamo a scrivere le funzioni lambda sono state introdotte sostanzialmente nella versione 1.8 di java ma in questa versione sono comparsi anche altre nuove notazioni sintattiche che permettono di ridurre la verbosità delle espressioni in particolare sono stati introdotti anche quelli che si chiamano dei method reference ovvero riferimenti a dei metodi che sono una rappresentazione molto più compatta ancora più compatta delle espressioni lambda per andare a descrivere delle funzioni delle classi interne anonime che implementano delle interfacce funzionali che non fanno altro che chiamare quindi rinviare la chiamata a un metodo di un altro oggetto dello stesso oggetto o di altri elementi per cui nell'esempio che avevamo visto prima in cui avevamo sostanzialmente la stampa di tutti gli elementi di un array tramite un oggetto consumer che chiamiamo printer ecco noi questo oggetto consumer lo possiamo andare a dichiarare in questo modo system.out 2.2.println questo sostanzialmente ci dice che l'implementazione con la classe interna anonima dell'interfaccia consumer e in particolare del suo metodo accept sostanzialmente consiste nell'invocazione del metodo println definito dentro l'oggetto out che sta nella classe system questo sostanzialmente è equivalente volendolo scrivere con un'espressione lambda a o freccia system.out.println di o quindi il parametro a questo punto diventa implicito perché è l'unico parametro che viene passato al metodo println tanto per darvi la misura di quanto riduciamo la prolissità delle espressioni quindi questo è come avremmo dovuto dichiarare l'implementazione del metodo accept dell'interfaccia consumer senza avere a disposizione né le espressioni lambda né i metodo reference quindi la riduzione, la compattezza delle espressioni è estremamente significativa. Qual è la sintassi generale dei metodo reference? I metodo reference permettono di andare a chiamare un metodo di un contenitore quindi l'elemento chiave è questo operatore due punti due punti che si trova a sinistra un contenitore il contenitore può essere un oggetto come pure una classe se facciamo riferimento a un metodo statico questo contenitore sarà una classe e non un oggetto e poi il nome del metodo a cui vogliamo fare la chiamata per cui se il contenitore è una classe ragionevolmente quello che ci troviamo a destra è un metodo statico quindi possiamo scrivere class due punti due punti nome del metodo questo significa sostanzialmente che l'implementazione del metodo dell'interfaccia funzionale consiste in una chiamata a questo metodo e sostanzialmente i parametri del metodo sono trasferiti nei parametri del metodo dell'interfaccia funzionale sono trasferiti pari pari in parametri del metodo statico di questa classe abbiamo anche la possibilità di andare a specificare un oggetto e un nome di un metodo di distanza in questo caso in maniera del tutto analoga i parametri del metodo dell'interfaccia funzionale verranno trasferiti ai parametri di questo metodo che noi andiamo a specificare l'oggetto è un oggetto che è disponibile direttamente alla dichiarazione dell'interfaccia del nostro metodo reference quindi potrebbe essere una variabile locale potrebbe essere un parametro del metodo potrebbe essere un attributo dell'oggetto in cui si trova questa dichiarazione abbiamo anche un'altra possibilità che è quella di andare a specificare un nome di una classe e un metodo di istanza in questo caso che cosa succede? che il primo dei parametri che vengono passati al metodo dell'interfaccia funzionale diventa il riferimento su cui andare a chiamare il metodo eventuali successivi parametri vengono passati a questo metodo infine possiamo anche avere un metodo reference per un costruttore in cui sostanzialmente andiamo a mettere il nome della classe due punti due punti new quindi in questo caso cos'è il risultato del metodo dell'interfaccia funzionale il nuovo oggetto creato in questo modo vediamo un po' di esempi di questi quattro casi specifici il primo caso abbiamo una chiamata a un metodo reference sostanzialmente è come una funzione infatti abbiamo una classe e un metodo statico quindi immaginiamo di avere una classe che si chiama double binary un'interfaccia che si chiama double binary operator che in effetti è definita dentro l'interfaccia java output function che accetta due parametri di tipo double e restituisce un valore double se immaginiamo di voler andare a combinare due valori numerici attraverso un oggetto di questa interfaccia se la combinazione vogliamo che sia il calcolo del massimo tra i due possiamo dire che il double binary operator combine è uguale a math due punti due punti max questo sostanzialmente corrisponde a scrivere una lambda function del tipo ab freccia math ab i due parametri del metodo apply as double vengono sostanzialmente passati come parametri del metodo max definito dentro la classe math posso chiamare ovviamente anche un metodo di un oggetto in questo caso invece della classe andrò a specificare quello che è un oggetto vediamo questo caso particolare immaginiamo di avere a disposizione un'interfaccia che chiamiamo int to char function che ha un metodo che si chiama apply, riceve un valore intero e restituisce sostanzialmente un carattere se noi abbiamo una stringa che chiamiamo x digits possiamo andare a dire che hex implementazione anonima di questa interfaccia è sostanzialmente x digits due punti due punti char at cosa vuol dire? vuol dire che quando chiamiamo apply di questo metodo hex passeremo un valore intero quel valore intero sostanzialmente verrà girato al metodo char at della stringa x digit cioè questa che contiene le cifre da 0 a 9 e poi abcdf quindi sostanzialmente permette di tradurre un valore tra 0 e 16 nella sua rappresentazione esadecimale per cui posso stampare hex punto convert di 10 e questo sostanzialmente ci restituirà il valore di a quindi esattamente come nel caso precedente ho un oggetto che sta nello spazio accessibile alla definizione di questa classe interna anonima una variabile locale in caso specifico e un metodo che verrà chiamato su questo oggetto i parametri del metodo apply in questo caso verranno passati tali e quali al metodo che io vado a specificare qui la terza sintassi con cui possiamo esprimere un metodo reference è quella in cui utilizziamo un nome di classe due punti due punti il nome di un metodo distanza in questo caso ovviamente abbiamo bisogno di un oggetto su cui chiamare questo metodo questo oggetto sostanzialmente viene preso dal primo parametro del metodo dell'interfaccia funzionale che stiamo implementando nello specifico se noi abbiamo un'interfaccia funzionale string to int function che ha un metodo apply che riceve un parametro string e restituisce un intero ci aspettiamo che questo primo parametro venga utilizzato per chiamare il metodo a cui facciamo riferimento per cui se scriviamo string due punti due punti length verrà chiamato il metodo length sull'oggetto passato come parametro quindi questa nostra funzione andrà a prendere la stringa che viene passata come parametro invocherà il metodo length e utilizzerà il risultato come risultato della funzione del metodo dell'interfaccia funzionale per cui se abbiamo un'interazione con string che stanno dentro un array che si chiama words il metodo f.apply s sostanzialmente restituisce la lunghezza delle singole parole che stanno dentro questo array in pratica è come se noi prendessimo s e utilizzassimo s per chiamare un metodo quindi questa è sostanzialmente la lambda function che equivale a questo metodo reference ultimo modo in cui possiamo andare a esprimere un metodo reference è utilizzando due punti due punti new sostanzialmente quello che facciamo è andare a creare un oggetto della classe che specifichiamo ovviamente questo metodo reference può essere utilizzato esclusivamente andando a mappare i parametri del metodo dell'interfaccia funzionale in parametri del costruttore per cui se abbiamo come riferimento un builder che è un integer due punti due punti new il risultato è che i parametri del metodo dell'interfaccia funzionale verranno passati al costruttore di integer per cui build d1 sostanzialmente prenderà questo parametro e lo passerà come parametro del costruttore di integer sostanzialmente è come se avessimo scritto una lambda function i freccia new integer di i quindi noi possiamo utilizzare le funzioni lambda e i metodo reference per andare a scrivere in maniera molto compatta delle classi interne anonime a partire da interfacce funzionali prima di concludere la nostra panoramica sull'ereditarietà in generale alcune considerazioni pratiche sull'uso di alcuni costrutti che abbiamo visto spesso quando si tratta di andare a implementare degli oggetti o delle strutture di classi ci si pone una questione è meglio utilizzare l'ereditarietà oppure la composizione spesso possiamo andare a scegliere una piuttosto che l'altra perché con opportuni accorgimenti riusciamo a implementare le stesse funzionalità in un modo o nell'altro immaginiamo il caso in cui dobbiamo andare a implementare ad esempio il pattern observer utilizzando ereditarietà piuttosto che composizione abbiamo visto che il pattern observer nella sua descrizione nel libro della gang of four rappresenta viene rappresentato come una struttura fatta da sostanzialmente quattro classi l'interfaccia observer, la classe observable, il soggetto che è sostanzialmente l'oggetto concreto che implementa l'interfaccia observer e un oggetto che è l'osservatore concreto che implementa l'interfaccia observer in alternativa noi possiamo sfruttare la composizione per andare a ottenere una analoga separazione o disaccoppiamento tra oggetti diversi che devono comunicare tra di loro in particolare all'interno del nostro soggetto noi possiamo andare a inserire uno o più oggetti di classe property change support che mantengono l'elenco degli oggetti a cui notificare le variazioni a questo punto l'interfaccia property change listener è sostanzialmente analoga all'interfaccia observer per cui da questa andremo a costruire implementando questa interfaccia degli oggetti che sono gli osservatori del nostro soggetto quali sono vantaggi e svantaggi? sostanzialmente quando abbiamo a che fare con l'ereditarietà la classe di base definisce una serie di metodi che poi sono tranquillamente disponibili direttamente nella classe derivata per cui gli utenti di questa classe derivata potranno chiamare direttamente questi metodi per andare a fare tutte le operazioni necessarie un esempio tipico è come faccio ad aggiungere un nuovo osservatore la classe di base observable ha un metodo che si chiama addObserver che permette di aggiungere nuovi osservatori in alternativa se uso la composizione la classe non è più ereditata ma bensì ho un oggetto della classe che gestisce le notifiche al mio interno quindi se devo poter aggiungere degli osservatori non posso offrire direttamente quel metodo è necessario andare a definire un metodo per l'aggiunta degli osservatori che sostanzialmente gira quindi delega a quello contenuto l'aggiunta di nuovi osservatori per cui nella fattispecie delle due alternative nel caso utilizzi la composizione qui dovrò andare ad aggiungere un metodo addListener che richiamerà il metodo addPropertyChangeListener sull'oggetto che gestisce le notifiche in pratica se utilizziamo l'ereditarietà un client andrà a chiamare il metodo addObserver sul nostro subject questo sostanzialmente è un metodo ereditato dalla classe observer che possiamo chiamare direttamente poi nel momento in cui vado a definire il valore di un attributo, di una proprietà dell'oggetto che deve essere poi, la cui variazione deve essere poi notificata ai nostri osservatori interessati cosa succede? ci sarà una chiamata al metodo setChanged che sostanzialmente imposta a vero il flag che mantiene la presenza di cambiamenti e poi ci sarà una chiamata a notifyObserver sull'oggetto stesso quindi andrò a chiamare il metodo definito nella classe di base observer il quale a sua volta, andando a prendere l'elenco di tutti gli osservatori, chiamerà il metodo update sul nostro osservatore interessato diverso è il caso in cui io abbia una classe contenuta perché? perché innanzitutto abbiamo un oggetto in più che è quello, il proprio decenni support che è quello che gestisce le notifiche quindi quando vado a chiamare un metodo addListener un metodo nuovo che ho dovuto definire io esplicitamente questo metodo rinvierà sostanzialmente l'aggiunta di un listener all'oggetto di supporto quando vado a modificare una proprietà che poi deve essere, la cui modifica deve essere notificata cosa succede? andrò a chiamare un metodo sul mio oggetto di supporto il quale a sua volta andrà a notificare i nostri osservatori interessati quindi abbiamo due possibili alternative che ci permettono di ottenere il disaccoppiamento tra chi manda le notifiche e chi le riceve sostanzialmente chi le manda non deve sapere nulla su chi le riceve se non che implementa un'interfaccia che può essere l'interfaccia observer in un caso oppure l'interfaccia proprio di changeListener nell'altro caso quali sono i vantaggi e svantaggi delle due? sostanzialmente se uso dell'ereditarietà io mi ritrovo tutti i metodi già pronti non devo andare a fare sostanzialmente nulla, la gestione degli eventi è fatta tutta lì addObserver, setChanged, notifyObserver sono tutti già compresi e ereditati dalla classe di base se utilizzo una composizione devo andare ad aggiungere ad esempio un metodo adListener e devo ricordarmi di andare a chiamare metodi dell'oggetto di supporto per fare tutte le notifiche tuttavia questa seconda soluzione ha un grosso vantaggio io posso avere tanti oggetti di supporto che vanno a notificare sotto insiemi diversi di osservatori mentre invece nel caso in cui abbia la classe Observable io ho un unico insieme di osservatori quindi la notifica viene mandata per qualunque tipo di variazione c'è nel nostro oggetto che vogliamo tenere sott'occhio invece in quest'altro caso io posso avere diversi meccanismi che mi permettono di andare a gestire le notifiche un'altra osservazione che dobbiamo fare rispetto ai metodi che abbiamo visto prima è come possiamo andare a implementare la variabilità all'interno di algoritmi abbiamo visto che ci sono due alternative uno è quello di utilizzare un idioma che abbiamo chiamato common behavior quindi comportamento comune in questo caso la variabilità è sostanzialmente legata agli oggetti che vado ad utilizzare sostanzialmente è quello che abbiamo visto con l'interfaccia comparable e il metodo compare to in questo caso quando io chiamo ad esempio un ordinamento l'ordinamento è implicito nel tipo di oggetti che sto ordinando ovviamente questo è un po' meno flessibile perché il metodo è uno e quindi io avrò un unico possibile tipo di ordinamento dato un oggetto che voglio ordinare o un insieme di oggetti che voglio ordinare lo strategy pattern è un po' diverso e sostanzialmente lega la variabilità nel nostro algoritmo non agli oggetti che vado a processare ma bensì a oggetti comportamentali che io passo quando è necessario in questo caso il tipo di comportamento dell'algoritmo non è legato agli oggetti che sta manipolando ma bensì è legato all'oggetto che passo e questo lo passo in maniera esplicita quindi vedo chiaramente qual è il comportamento che passo perché è un parametro in più che viene messo nell'elenco di parametri del nostro algoritmo e quindi sostanzialmente questo è un approccio un po' più flessibile vediamo un po' più nel dettaglio cosa significa in termini di ordinamento se io ho una classe student che sostanzialmente va a confrontare i miei studenti sulla base della loro matricola quando faccio una resource student qui è implicito che l'ordinamento venga fatto tramite il metodo compare2 infatti questo è quello che normalmente si chiama l'ordinamento naturale l'altra possibilità è quella di andare a chiamare il metodo sort passando un comparatore il comparatore in questo caso definiamo con questa lambda function può essere uguale identico a quello precedente quindi sostanzialmente ordina in base ai nostri identificatori oppure come in questo caso scambiando B e A sostanzialmente ordina i nostri studenti in ordine inverso quindi in questo caso abbiamo l'ordinamento naturale implicito definito dal metodo compare2 dell'interfaccia comparable in questo caso abbiamo un ordinamento esplicito che è definito da una strategia implementata tramite un oggetto comparatore quindi sta a noi andare a scegliere quale tipo di ordinamento vogliamo fare sui nostri oggetti in generale è buona norma avere un tipo di ordinamento predefinito che è quello che chiamiamo per l'appunto naturale e all'occorrenza possiamo andare a definire degli ordinamenti di tipo diverso variabili tramite dei comparatori specifici in cui dichiariamo esplicitamente il criterio con cui andare a ordinare i nostri elementi direi che con questo abbiamo concluso quella che è la panoramica sull'ereditarietà in Java abbiamo visto come possiamo definire l'ereditarietà quale è la sintassi la possibilità di avere i cast tra oggetti cosa significa up cast e down cast e soprattutto quali sono safe o unsafe abbiamo visto la presenza di una classe di base per tutti gli oggetti che è la classe object abbiamo visto come possiamo utilizzare dei metodi astratti che quindi ci permettono di avere delle classi astratte e come l'evoluzione delle classi astratte sia le interfacce e infine abbiamo visto diverse tipologie di uso delle interfacce e come nell'ultima versione del linguaggio Java una delle ultime versioni la 1.8 siano stati introdotti una serie di sintassi che ci permettono di scrivere delle classi interne anonime in maniera molto più compatta rispetto a quanto era possibile fare in precedente grazie 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 grazie